Ehi ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus Oggi iniziamo un nuovo gioco di Star Wars, ma questa volta senza il nostro pad della PS4 Che non serve a niente, guardate un po' che cosa ho trovato sugli scaffali Non so se lo conoscete già, o perlomeno io ancora non lo conosco A parte l'esistenza degli ovetti Kinder, che quindi ce li pappiamo perché ci piacciono Ma all'interno dovremmo trovare, non so se riuscite a vederlo per bene Dovremmo trovare qualche icona o comunque qualcosa inerente a Star Wars Comunque andamocela a vedere bene nel dettaglio, dai! Eccoci qui quindi di ritorno, vi mostro per bene la scatola Qui c'è scritto 2 su 4, quindi in teoria da questi ovetti è garantito Qui c'è scritto anche bello grande, che dovremmo trovare almeno 2 sorprese su 4 Comunque mi sono munito anche di bustina Facciamo attenzione a non rompere piano Primo uovo Apro anche il secondo Eccolo qua Ecco col terzo Ed ecco qui anche il quarto Mettiamo da parte, mettiamo qui la bustina E vi vado ad aprire tutti e quattro Uh, attenzione Le uova in maniera tale che Dopo ce le andiamo a guardare tutti che bene Perché mi sei... Ah, no, è cioccolata, pensavo fosse più duro Ok, il primo l'abbiamo aperto Gettiamo di qua anche il secondo Ammazza Ma... Sembra quasi di ferro questo uovo ovetto kinder Vabbè, comunque l'importante che poi dopo vi farò sapere anche ciò che riguarda la bontà Ammazza E che... Porca paletta ragazzi Queste uova sono veramente durissime Incredibile Vabbè dai Apriamo il primo Cosa esce? Da montare Uh, guardate qui Vi faccio vedere I minimi particolari Sembrano tipo Guardate un pochettino Ok, il primo l'abbiamo scartocciato Vi faccio vedere anche cosa esce da dentro E Dove lo faccio vedere Anche montato Nei minimi particolari Guardate qui Spero vi piaccia Ok Quindi primo pezzettino Poi dobbiamo vedere Poi montato com'è Ok Questo è via Spostiamo e facciamo spazio Quindi la prima ci è andata bene Passiamo al secondo Cosa è uscito? Che cosa è uscito? Mi sa che ci è andato male Se ci è andata abbastanza male Ci è uscito penso un piccolo Qualcosa inerente a un dinosauro Una cosa del genere Vabbè dai Questo ci è andato male Vi faccio vedere anche i pezzi Com'è fatto Ma Poco o niente Mettiamolo da parte Tra quelli scarsi praticamente Le mettiamo a sinistra di qua Abbiamo anche il secondo? Mi sa che questo Pure è andato male Porca miseria Vediamo cosa è uscito Vi faccio vedere Da questa parte Che cavolo è? Dovrebbe essere Ma che cos'è? Un castoro Ma Vi faccio vedere Anche i pezzettini Ma tanto a noi Interessava soprattutto Quello inerente a Star Wars L'ultimo E' garantito Che dovrebbe essere Anche questo Vediamo se sono stati di parola Credo di Sì Cazzo è uscito Giubecca Porca la paletta Non so se sono riuscita a vedere Per bene Vi faccio vedere Anche quest'altra parte Di qua Ok Vi faccio vedere Anche Cosa esce Da quest'altra verde Sì Dovrebbe essere Questo qui Guardate qua E' proprio Lui Eccolo qua E' già montato E' già montato Ok Dopo aver perso Sei giorni E sei noti Vi faccio vedere Come sono montati Porca miseria Non li rompiamo subito Eccolo qui Sono dei piccoli Mini portachiavi Questo è il primo Questo è il secondo Non so se riuscite A vedere bene Nei minimi particolari Spero che Vi piacciano Vi faccio vedere poi Anche cosa è uscito Non atti niente Per niente A Star Wars Eccolo qui Quest'altro Personaggino E poi Abbiamo anche Quest'altro Guardate qui Eccolo qui Eccoci qui Di ritorno Spero come sempre Che questo genere Di video Vi sia piaciuto Mi raccomando Mettete un bel pollice In su Così magari Se riesco a trovare Qualcosa inerente Sempre a Star Wars Oppure qualcosa Inerente anche Alla Marvel Magari lo scartocciamo Ci guardiamo dentro Cosa c'è dentro Comunque Spero come sapete Questo video vi sia piaciuto Non vi ricordate Se non vi mette Mi piace Non ci vediamo Nel prossimo video E bye bye Ciao